Sì, purtroppo è una gruva sconfitta, ma è una sessanta pubblica, dobbiamo fare in casa, soprattutto se vogliamo farlo, ma bene, non si prenderà la prossima cosa. Abbiamo preparato la partita, l'avevamo preparata bene, l'avevamo troppi, troppi errori, voglia di noi, un'altra lucidità, i momenti importanti, ma non è un'altra cosa.